allora aspetta che ci fermiamo allora taric è un nemico l'altro nemico è qua dove sto pingando e io lancio la e su taric quindi arrivo qua manualmente lui deve attivare la cupola la sua è in modo che la direzione ma dove andare sì io lo spesso non c'è arrivo carmio manco anche usando lo stun vabbè bellissima bellissima nice l'ho visto non hanno visto da te non è possibile va bene a posto oh mica sempre quando porca troia devo fare smicchi smicchi mi prendo il minion che ne missi 28 a secondo per me che siamo molto vicino ai miei insieme per essere leona di terry tendo milione e 120 mila punti maestria si perde va bene oh questo è un bel po' mi piace e ora che fai? non si muovono e ora che fai? brava deficiente un po' io vai 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 continuiamo ok easy un'ora e mezza sotto la torre non servono i danni se puoi colpire di per 10 secondi buoni canile ti voglio bene ma non lo so succhiatemi il cazzo bastardi ecco come fa un main support main jungler al jungler le hai preso di autoattacco cioè io io alzo le mani inizio Gli è l'uccisa? Hello, I wanna know if you are right with five stones champ Ne abbiamo solo quattro Sì, ma ho pochissimo È verissimo E ora che fai Yumi? Puoi scappare? Non puoi No, peccato Comunque di R ho ucciso quella che era scappata Di Stun ho ucciso l'altro Comunque in quattro per ammazzarci Sì, sì, bellissimo Uh, troppo gente No? Non sei saia cammina dentro lo stun Cheat anche cosa? Sì, sì, uguale Ehm, anche a Mild No, Yasuo no L'odio Yasuo Anche Yasuo C'è tutto bene No, Yasuo No, Yasuo Devo andare meglio Se riuscivo a strunarlo Io e suo non morivamo My bad Io ragazzi Se poi voglia Penso di sì Faccio un bel video Su questa partita Perché Doi Gigi a Rammu Stavolta C'è Aspetta C'è stato bot E ha fatto un giretto Abbiamo preso tutti S Madonna Vi prego Guardate i danni No Mister Milione di Maestriano Ha preso S Vi prego Guardate i danni Imbarazzanti 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 ragazzi Eramo puntati Quanti C'è tipo Lei è l'unica Che è andata d'anno No io ero qui Io avevo Il Lost Chapter Va bene Lo stesso Io Io parte l'Iceborn Io parte l'Iceborn Ero qui